La prima finalista del GF VIP, Oriana, si lamenta con Daniele perché si sente da sola e gli dice Sembra strano, io lo sento, percepisco le cose, credimi, non sto facendo un film, ti stai allontanando da me Daniele le risponde, tu devi accettare come sono fatto io, se non ti va bene passa al prossimo Non c'è problema, io voglio capire il valore di una persona Vai in finale, vai, continua la crisi tra i due ragazzi, non si capiscono, per niente, è tutta un tira e molla